Se qualcosa va storto, ricorda che è Dimocrate che cerchiamo. L'ordine è arrivato. Sei in ritardo! Siamo arrivati precisamente quando intendevamo farlo. Ricorda, quando Dimocrate si mostrerà, lo uccideremo. Oppure li uccidiamo tutti. Suppongo che tu abbia portato quello che ci serve. Già, a proposito, non credo che ve ne forniremo ancora. Non siete voi a decidere. È così che si tratta. Voi fornite le dracme. Noi abbiamo le A, gli spartani e la guerra. Voi avete ciò che volete e noi abbiamo ciò che vogliamo. Non vi... dovete dimostrare all'ordine cosa ne pensate. La vostra intera organizzazione si è lasciata mettere al sacco da quei Mistios e dal suo uccendito. Consideratela la vostra ultima possibilità per fare il vostro dovere e supportarci in messa. E' ovvio che non conoscete l'ombra dell'Aquila. E poi chi sei tu per gettare al vento la nostra alleanza? È fin dai tempi di Cersei che lavoriamo insieme per la pace. Pace? Non farmi ridere. Siete stati voi a gettare l'intero mondo greco in un conflitto senza fine per il vasto Tornacolo. Pensate che non lo sappiate. A morgami bravo. La setta di Cosmos è caduta in basso. Non capirò mai cosa abbiamo guadagnato da questa alleanza. Dovrei ucciderti qui e ora. Pensa attentamente a quello che stai a fare. Che gli dèi ti maledicano, dimocrate. Che gli dèi ti maledicano. Pagaci e terremo fede alla nostra parte dell'accordo. Questi incontri. Quindi l'accordo sussiste? Dimocrate! Lui. Quello è dimocrate. Cos'è la vita se non puoi avere il meglio ed essere il migliore? Io lo ignoro. Mi basta una conversazione per scoprire cosa è più importante per una persona e come distruggerla. Al forte! Al riparo! Devi morire! Fermati subito! È qui! All'attacco! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.